Apertura delle procedure per uno sciopero qualora l'azienda non dovesse convocare i sindacati al fine di far conoscere loro quale sia il piano B dopo la perita della gara sulla continuità aerea della Sardegna, ma anche la sensibilizzazione delle istituzioni locali e una manifestazione a Cagliari davanti al Consiglio regionale, in data da fissare. E' quanto ha deciso ieri l'Assemblea dei lavoratori di Eritari. Il segretario della Filti CGL Sardegna, Arnaldo Boedo, nel suo intervento, ha invitato tutti ad evitare di parlare di questioni che riguardino il lontano e recente passato. Occorre invece concentrarci su quello che noi possiamo fare da qui in avanti. Secondo il sindacalista, aver perso la continuità aerea nelle rotte da Olbia per Roma-Fiumicino-Milano-Linate, aggiudicate dall'Italia, preoccupa i lavoratori ed iscrive uno scenario drammatico per il futuro di Eritari. Al momento per l'azienda ci sono due opzioni. Accettare di volare le due tratte praticando prezzi in linea con quelli della continuità, ma senza ricevere le compensazioni. Oppure lasciare campo libera dall'Italia. In questo caso ci sarebbero ripercussioni non solo per i dipendenti della compagnia gallurese, ma per tutto il territorio. Sono infatti circa 3.000 lavoratori diretti in diretti che rischiano di trovarsi in difficoltà. Dal personale del call center ai tecnici delle manutenzioni, agli amministrativi, ai piloti, agli assistenti di volo e ai dipendenti della GESAR. Molti potrebbero essere costretti ad assurirsi in Lombardia, dove la compagnia aerea sembra voler spostare il baricentro dell'attività. ipotesi che rappresenterebbe un danno per l'economia di tutta l'isola, da cui la necessità di coinvolgere il Consiglio regionale in questa mobilitazione dei lavoratori e del sindacato.